L'Università di Teramo ha deciso di posticipare le votazioni per il rinnovo delle cariche rappresentative degli studenti a novembre, anziché in primavera come di consueto, quindi non alle lezioni tramite portale web ma in presenza quando sarà possibile. In accordo con i rappresentanti degli studenti, con il Consiglio degli studenti, che è l'organo di riferimento degli studenti dell'Università di Teramo, abbiamo deciso di aspettare ancora qualche mese perché la problematica dello svolgimento delle lezioni in remoto esiste, ma non tanto per la modalità ma soprattutto per la partecipazione. Io penso che le lezioni studentesche siano un momento di democrazia molto importante, quindi è importante che partecipi il maggior numero possibile di studenti. In questo momento che le lezioni frontali sono bloccate e pochissimi studenti frequentano il campus, abbiamo deciso tutti insieme di aspettare ancora qualche mese. E nel caso in cui si dovesse protrarre ancora di più la pandemia, decideremo di proposito o di prorogare di qualche mese i mandati attuali oppure di svolgerle in una modalità in ogni caso sicura. Sono circa 7.000 gli studenti di Unite che dovranno eleggere le tre tipologie di organi dell'Ateneo, il Consiglio degli studenti, quelli di facoltà e quelli dei corsi di laurea. La nostra università gode di alcuni primati come l'Affluenza, dove in alcune facoltà è di circa il 30% degli studenti che si regono a votare contro una media nazionale che si attesta intorno al 10. Rinviare le lezioni, che comunque non c'è fretta di farne in questo semestre, poiché il mandato scade entro il primo novembre e noi l'abbiamo semplicemente rinviato all'inizio del prossimo semestre. Inoltre ci sarà la possibilità anche per i nuovi studenti di poter essere eletti e quindi di rappresentare gli studenti già dei primi anni, quindi io credo che di fatto è una scelta che può essere anche poi dopo per i prossimi anni considerata, perché insomma la fretta di votare adesso non c'era. Grazie. 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 Grazie.